Ciao ragazzi, siamo al MED YouTube e il MED è il MED-ITALIAN-FOOD e siamo con il mio amico MED il MED-ITALIAN tipo MED eh, questo sarà per il tempo mediterraneo, no? MED-ITALIAN-FOOD.IT ciao ciao sei veramente scema non lo fai apposta sei veramente scema ma insomma siamo venuti qui per prendere il nostro aperitivo uno spritz è un... lo spritz l'ho sentito più che i due calici a Venezia non vi dico altro hanno usato un buon vino di qualità per fare lo spritz tu cosa guardi? io stavo portando il prosciutto il prosciutto il prosciutto il prosciutto beh, affascinati dalla qualità del vino ci siamo presi anche e così l'ostrizia un paio di champagnini lo betta da poco che smoroni che siamo ho detto proprio così in modo plateare ma c'è l'orso tu amico l'orso il prosciutto il prosciutto aiuto è una bellissima non è mio è del locale ero sul tavolo hai altro da aggiungere? no no il med è il quartiere latino di previso è il giorno di diversità è veramente molto carino qui una volta c'era la vineria non ho capito esattamente se è la stessa gestione da vineria oppure si è cambiata per me la stessa hanno commesso solo un nome ma può cambiare così tanto? ma no in realtà il genere è un posto che secondo noi vale la pena di essere battuto e assaggiato dall'inizio alla fine l'ambiente è un po' succinto però molto accogliente è sicuro e in assoluto l'arredamento è fatto con criterio non è la solita cosa che ne sono ottime ottime soluzioni di design un po' in barba tutto quello che è il classico localeno luci bluastre high-tech da fighetti esistimamente si vede tanto in giro molto semplice carino però e la qualità di vini è esorbitante un'altra cosa da dire è che vendono prodotti italiani quindi vendono la pasta vendono delle patatine particolari la crema una crema spalmabile alla cioccolata e alle nocciole per la mattina di natale c'è ancora più c'è comunque per noi dal med è tutto ragazzi ve lo consigliamo caldamente buon natale a tutti ciao neppi piano Sì, vabbè, lo dicevamo?